L'immediata vigilia di Leicester City Football Club West Ham United, sentiamo il sentimento dei tifosi del Leicester per questa partita importante contro West Ham United. Qual è il tuo sentimento di questa partita contro West Ham United? Stiamo giocando molto bene in questa partita. Stiamo giocando molto bene, West Ham ha bisogno di vincere, quindi dovrebbe essere un buon gioco, ma se vinceremo questo, credo che abbiamo vinto la squadra. West Ham viene qui per vincere perché ha bisogno di vincere per andare in Europa League o meglio ancora in Champions, ma anche loro hanno bisogno di vincere per vincere allo scodetto. E' molto bello. Grazie.